I giochi sono fatti, le candidature per le prossime elezioni per il rinnovo dei due rami del Parlamento fissate per domenica 4 marzo sono state consegnate alla Corte d'Appello di L'Aquila. Nel centro-destra esclusioni eccellenti, ai nomi già fuori la scorsa settimana, Gianni Chiodi, Paolo Gatti e Antonio Razzi, ieri sera si è aggiunto quello di Fabrizio Di Stefano. Il deputato teatino si è dovuto fare da parte per permettere la candidatura del sindaco di Pratola Pelligna, Antonella Di Nino. Rinnovamento, questa la parola d'ordine usata dal coordinatore regionale di Forza Italia Nazario Pagano, in calcio alla nota che ufficializza i candidati. Per l'uninominale alla Camera nel Collegio Aquilano ci sarà la novità dell'imprenditore pescarese Antonio Martino di Forza Italia. A Teramo è candidata Lucrezia Rassicci della Lega, a Pescara Guerino Testa di Fratelli d'Italia che l'ha spuntata su Alessandra Petri, a Chieti Emilia De Matteo sempre di Forza Italia e a Vasto Enrico di Giuseppe Antonio, attuale segretario regionale dell'Udc. Per l'uninominale del Senato, oltre ad Antonella Di Nino, candidata anche nel prurinominale, anche uno dei cosiddetti paracadutati Gaetano Quagliariello. I capolista alla Camera sono Gianfranco Rotondi per Pescara Chietivasto e Paola Perino per l'Aquila Teramo, al Senato invece Nazario Pagano. Anche in casa del PD i giochi sono fatti ma non sono mancati fibrillazioni e mal di pancia. Camillo D'Alessandro torna in partita come capolista alla Camera per il collegio Pescara Chietivasto, scalzando al fotofinish Lucia Annibali, molto gradita a Renzi. L'altro capolista è Stefania Pezzopane. All'uninominale alla Camera i candidati sono Antonella Allegrino a Pescara, Antonio Castricone a Chieti, Sandro Mariani a Teramo, Lorenza Panea all'Aquila e Marusca Miscia a Vasto. Al Senato, confermati la civica e popolare Federica Chiavaroli per Pescara Chieti e l'ex sindaco di L'Aquila Massimo Cialente per l'Aquila Teramo. Nell'istino proporzionale del Senato il capolista è Luciano D'Alfonso. In quarta posizione, all'ultimo, è entrata l'attuale presidente dell'Istituto Zoo Profilattico di Teramo, Manola Di Pasquale. Nel Movimento 5 Stelle oggi Luigi Di Maio ha ufficializzato i candidati esterni al Movimento. All'uninominale alla Camera ci sono Andrea Colletti per Pescara, Daniele Delgrosso per Chieti, Carmela Grippa per Vasto, Giorgio Fedele per l'Aquila e Antonio Zennaro per Teramo. Al Senato uninominale confermato l'ex direttore del centro, primo Di Nicola, nel collegio Pescara Chieti, mentre all'Aquila Teramo correrà Emanuela Papola. Dopo le parlamentarie, capolista alla Camera nel collegio 1 e Gianluca Vacca nel collegio 2 e Valentina Corneli. Al Senato il capolista e Gianluca Castaldi. Poche le novità negli altri partiti, tra queste nel centrodestra ed in noi con l'Italia, nel listino alla Camera il capolista Giulio Sottanelli, mentre al Senato è Mauro Di Dalmazio, ex assessore regionale nella giunta Chiodi. In noi con Salvini invece tra i volti noti quello del sindaco di Orsonia Fabrizio Montepara al listino del Senato e del coordinatore regionale Giuseppe Bellachioma in entrambi i listini della Camera. C'è anche Luigi Deramo. Cambiando schieramento, tra i civici e popolari della Lorenzin, nessuna novità dell'ultima ora. Capolista del Senato è Federica Chiavaroli, della Camera 1 è Lucrezio Paolini e del collegio Teramano Aquilano, Giorgio D'Ignazio. In liberi uguali c'è ancora l'eco delle polemiche per le candidature che avrebbero messo in secondo piano alcuni esponenti regionali come Gianni Melilla, che sabato ha contestato apertamente le scelte del partito di Pietro Grasso, che all'uninominale per Pescara ha scelto Ivano Martelli, a Chieti Sonia Del Rossi, a Vasto Giuseppe Marisi, all'Aquila Luigi Fabiani, a Teramo Stefano Alessiani. In potere al popolo il candidato nel listino della Camera al collegio 1 e il segretario Maurizio Acerbo, nel collegio 2 Silvia Frezza. Al Senato il listino è capeggiato da Marisa D'Alfonso. Per l'uninominale all'Aquila Alessandro Tettamanti, a Teramo Roberto Degnetti, a Pescara Franca Gallerati, a Chieti Alessandro Faragalli e a Vasto Daniela Spadaro. Domani, in una conferenza stampa a Pescara, invece, la lista Insieme, che vede Uniti, PSI, Verdi e Lista Prodi, ufficializzerà le proprie candidature al plurinominale.